allora innanzitutto volevo far presente che per questa degustazione nessuna nutrizionista è stata trattata male questa è la parte bella c'è l'unica presentazione dove veramente sono contento col più delante di fare per due motivi uno perché faccio assaggiare esattamente come sono i miei prodotti quindi veramente testarli e tanta roba e due perché adesso dal momento che l'aprite non mi guardate più in faccia sono più rilassato voi mangiate basta potrei dire un sacco di cazzate quindi aprite le box e vi dico come iniziare allora vi chiederei di visto che edo ci ha servito l'aggancio con la box con i due risi che uno al tartufo e uno al funghi quindi sono due risi molto pregiati venivano accompagnati dal bacio di dama che vi invito ad assaggiare innanzitutto se qualcuno ha delle intolleranze glutine lattosio e nickel perché sono presenti latticini cioccolato e ovviamente glutine non c'è solo farina di riso c'è una percentuale anche di farina e mi dispiace fatto dicevo per quello allora il bacio di dama è un bacio natalizio l'abbiamo fatto quindi con cannella c'è la maggior parte di farina di riso quindi per quello che è in una box insieme a edoardo è fatto con appunto farina di riso e burro non ci sono non ci sono uova nel bacio di dama un pochino di farina normale ovviamente zucchero quello che c'è all'esterno della cannella per renderlo un pochino più natalizio rimane molto friabile appunto perché c'è una grossa percentuale di farina di riso internamente nella box lo troverete in una confezione con 200 grammi quello che adesso ve l'ho fatto assaggiare a posto così almeno avete testato oltre i risi anche quello che è la parte dolce del nostro pensiero natalizio vi invito a mangiare poi il primo panettone panettone classico che è quello con uvette canditi quello che accomuna tutti i nostri panettoni e diciamo vi dico il segreto è che non c'è un segreto la nostra accetta non comprende emulsionanti non comprende miglioratori cioè quello che usiamo sono ingredienti naturali lievito madre questo è il nostro lievito al lavoro ingredienti di prima scelta lo vedete nei canditi dell'uvetta usiamo un uvetta che è veramente raro trovare me la faccio arrivare proprio per questo tipo di panettone un uvetta che in cultura rimane ancora morbida al contrario di quella che potete trovare a volte in commercio dove c'è un uvetta secca rapucciù come si dice invece questa qua è un uvetta che rimane morbida il candito non è un candito ma è un semi candito di arancia siciliana quindi rimane veramente molto morbido è leggermente anche meno dolce poi la morbidezza del panettone che adesso tutti e tre i panettoni magari non li apprezzate al 100% perché essendo che è ricco di burro ovviamente va mangiato intorno ai 28-30 gradi si mette su un termosifone lo si mangia a fine pranzo e si ammorbidisce le profumazioni vengono esaltate parlavo appunto di materie primi intanto se volete passare anche al secondo panettone potete assaggiare quello al pandoro perché poi il cioccolato è quello che vi copre un po' di più gusto degli altri il pandoro ha come anche il panettone tre impasti diversi è un'altra cosa che accomuna il nostro altro segreto qual è di avere veramente molta pazienza a fare i panettoni perché ci va il suo tempo lo lievito comanda lui io non ho in questo periodo qua mi sveglia lui quando è ora di doverlo fare possono essere un'ora piuttosto che l'altra piuttosto che l'altra si dà il giusto tempo all'impasto perché possa lievitare ci vanno tre giorni ci sono da quando si inizia a fare il primo eh sì un giorno e mezzo solo per poterlo lavorare deve riposare va confezionato e ci sono tre lievitazioni differenti questo vale per il panettone come vale per il pandoro dove ho messo il pandoro perché tanta gente non piace uvette canditi secondo me sono pazzi perché un culo uvette che ne sono buonissimi però comunque c'è chi piace più il pandoro molto più ricco di burro molto più ricco di uova ed è un dolce ovviamente che bilanciato diversamente e che va diciamo c'è il team pandoro e team panettone sono le due cose dove si equivalgono ormai una volta era 780 20 adesso c'è veramente quasi metà pandoro e metà panettone ultimo ultimo panettone c'è chi veniva assaggiare panettone al cioccolato affondente vi ho messo diciamo tre classici sui tipi di panettone perché poi ci saranno tutti quelli particolari che vedrete del foglio che vi ho lasciato lì davanti mi sono permesso di presentare di tutte le nostre specialità che facciamo quest'anno con anche aggiustamenti relativi prezzi il panettone al cioccolato ha una base simile come primo impasto al panettone classico poi viene aggiunto una qualità molto importante di cioccolato fondente al 70% quindi un cioccolato veramente molto buono molto strong dove dà sia un po' di profumazione all'impasto e poi dopo la goccia si scioglie nel forno ma non tutta in modo che quando si va a mangiare si va veramente a saporare ancora più il gusto del cioccolato fondente le pezzature questo è il riposo che poi devono avere tutti i panettoni una volta sfornati che sono 12 ore che riposano la testa in giù a volte ho messo straslide perché l'altro giorno parlavo consiglio e mi ha detto ma perché le hai messo uno al contrario non solo al contrario appena sfornati e ovviamente collasserebbero se non vengono girati subito quindi vengono girati e riposano fino al completo raffreddamento vedo che manca più poco sarò velocissimo i panettoni facciamo dei 100 grammi 5 kg facciamo qualunque tipologia di peso e di personalizzazione se è il caso quello che vi volevo ancora dire è che non facciamo per il Natale solo esclusivamente lievitati ma come vi ho fatto vedere c'è anche la possibilità di fare cesti facciamo vasocotture, facciamo spalmele, facciamo tantissime tipologie di prodotti potete essere dal piccolo prensiero prima di andare a comporre il cesto natalizio completo e ricordatevi che a posto di mettere il suo giro e il piede sull'acceleratore mettete le due sotto il tavolo, fate gli ordini e noi siamo a disposizione e Buon Natale a tutti DMC Podcast DMC Podcast DMC Podcast DMC Podcast